Che vuoi? Albano Carrisi Romina Power Il triste annuncio, smetto di cantare Pare che Albano Carrisi abbia annunciato il suo definitivo ritiro dalla musica. . Dopo il tristissimo annuncio fatto sui social da cancelletto Romina Power, in cui fa capire di non essersi mai rassegnata a cercare la figlia Elenia, e lo stesso cancelletto Albano Carrisi, suo ex marito, a parlare dei sentimenti per la scomparsa della figlia e ne approfitta per dare un annuncio che ha rattristito i suo fan più acaniti. . Lintramontabile cantante Salentino, avrebbe annunciato, in una trasmissione Rai, che ha intenzione di smettere di cantare tra pochissimo tempo, lasciando spazio ad altri artisti meritevoli, ma ecco quali sono state le sue parole. Il triste annuncio di Albano. . Pare, dunque, che il famosissimo Abano Carrisi, in arte Albano, abbia annunciato, durante un'ospitata a porta a porta, di voler abbandonare il mondo della cancelletto musica, per dedicarsi all'altro. . 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